Popolo di internet, ben ritrovati in un nuovo video oppure benvenuti se è la prima volta che passate sul mio canale io sono uomo che sapeva troppo per gli amici uomo, in questo momento sono live con un po' di gaglioffi e gaglioffe che vedete qua nella chat di fianco a me e ho deciso di estrapolare questo pezzettino di live perché dobbiamo leggere una valangata di rumor che stanno girando un po' su internet che sono stati raccolti qua e là anche dai prodi di The Cosmic Circus quindi non propriamente più affidabili ma come dico sempre quando ci sono tanti rumor, una valanga di rumor qualcosa di vero probabilmente c'è sempre e anche se dovessero rivelarsi comunque tutti i rumor falsi è interessante fare magari discussioni o ipotesi su come potrebbe andare il Marvel Cinematic Universe che insomma è in un momento di fervore un po' per aggiustare il tiro per alcune cose che sono successe prima un po' per migliorare il futuro che ha davanti ora andiamo a dargli una scorsa assieme, ce li leggiamo, ipotizziamo, capiamo, discutiamo e ovviamente se state guardando questo video su YouTube vi invito ad iscrivervi anche al mio canale Twitch venire a tornare anche su Twitch, qua sotto trovate in descrizione tutti i link per venire a partecipare a queste live quindi chiacchierare con me e con la chat di un po' di cose riguardanti il cinema, i fumetti, i manga, la cultura pop eccetera eccetera rumor Marvel attualmente gli Avengers secondo diciamo le indiscrezioni quindi secondo quello che potrebbe essere il macro progetto della Marvel non esistono o meglio ci sono ma come entità separate ognuno di loro fa le sue avventure ognuno di loro ha storie line diverse e in effetti lo stiamo comunque notando Captain Marvel nello spazio Sam Wilson che sarà il nuovo Capitano America in azione Winter Soldier che ha deciso di appendere un po' al chiodo l'idea di fare magari il Capitano America di turno ma farà qualcos'altro lo vedremo in Thunderbolts abbiamo visto che ne so Doctor Strange fare le sue avventure e chissà dove poi dopo Doctor Strange 2 insomma gli Avengers ci sono ma non ci sono Bruce Banner fa il Professor Hulk va a trovare il suo figlio nello spazio torna giù ognuno si fa un po' i cavoli suoi qual è la story line che porterà gli Avengers a riunirsi secondo i rumor è World War Hulk quindi World War Hulk un casino un qualcosa riguardante Hulk probabilmente Hulk che impazzisce o magari non lui magari World War Hulk di cui si parla in questi rumor riguarda il figlio di Hulk non si sa comunque questo World War Hulk dovrebbe riunire il gruppo in qualche modo ridare la voglia di essere Avengers e in qualche modo prepararli anche per quello che arriverà in futuro contro Kang messa giù così contro Kang vuol dire che questa roba deve uscire prima di Avengers Kang Dynasty che mi sembra un po' strano perché vuol dire che c'è un Avengers prima dei due Avengers già annunciati magari sarà in mezzo tra Kang Dynasty e Secret Wars magari non si chiamerà Avengers World War Hulk ma si chiamerà solo World War Hulk anche qua lo scopriremo solo vivendo è una story line che abbastanza tamarra nel fumetto anche un po' inutile lo devo dire ma che al cinema non mi piacerebbe vedere cioè vedere Hulk che torna ad essere cattivo incazzoso ci può stare comunque World War Hulk è uno di quei rumor che tornano continuamente Blade il film di Blade racconterà le origini del personaggio quindi ci saranno le origini di Blade ci saranno le origini anche per quel che riguarda la spada d'Ebano quindi la spada sacra di Blade che già abbiamo visto in qualche modo in Eternals e il film di Blade in qualche modo passerà da passato a presente in continuazione proprio come Eternals quindi parte con lui nel 1800 Blade che viene diventa vampiro morso lui negli anni venti lui nel presente insomma si passerà avanti e indietro e le origini del personaggio ci sono quindi la sua storia verrà raccontata e dico io anche meno male perché sarebbe stato un po' strano che non le avessero raccontate poi 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 Captain Carter lo vedremo ancora in What If stagione 3 ma non solo il personaggio quindi si ipotizza quel personaggio visto che l'altra Capitan Carter è morta in Terra 838 il personaggio di Capitan Carter comparso nelle stagioni di What If prima, seconda e poi anche terza dicono arriverà anche in Secret Wars quindi in live action vedremo quella Capitan Carter ci sta sarebbe il primo passaggio effettivo effettivamente da il disegno animatico ai cartoni a live action quindi momento storico nel caso ma in Secret Wars io mi aspetto che compaiano veramente un po' tutti c'è anche solo in qualche inquadratura sullo sfondo non lo trovo non lo trovo impossibile ecco la comparsa di di un sacco di gente si sta parlando di Capitan Bretagna quindi Capitan Bretagna è un è sul tavolo delle discussioni chi lo farà ancora non si sa come vorranno farlo nemmeno nei fumetti comunque è si occupa di multiverso perché comunque di fatto fa parte di quelli che sono un po' i guardiani del multiverso un po' la Spiderverse lui è un po' il lo Spider-Man 2099 della sua della sua compagine di eroi tra l'altro Capitan Bretagna ricordiamolo ha i poteri che arrivano direttamente dal mago Merlino un personaggio particolare non è il Capitano America inglese la colsiero del super soldato inglese però ok Marvel è decisa a non cancellare completamente il personaggio di Kang questa cosa io la do abbastanza per assodata ma si sta anche guardando intorno per avere un altro villain nella saga di Kang tutti qua abbiamo sempre puntato chi su Dottor Destino chi su l'Arcano grande nemico di Secret Wars quindi potrebbe essere effettivamente vero questo questo rumor Carol Danvers la povera Capitan Marvel maltrattata con il film The Marvels continuerà a cercare di capire quali sono le vere origini delle bande quantiche che abbiamo visto in The Marvels si metterà tra l'altro alla ricerca di Monica Rambeau poverina scomparsa e finita in quell'altro universo con i mutanti Kamala Khan farà la stessa cosa di Carol Danvers di Capitan Marvel quindi cercare di capire da dove arrivano le bande quantiche ma lo farà assieme ad altri amici slash eroi Young Avengers probabile probabile Harry Cavill dovrebbe esserci in Deadpool e Wolverine quindi presente probabilmente come variante di Wolverine la mia speranza era che fosse una variante di ciclope per vestirlo come il ciclope della serie animata anni 90 e di X-Men 97 da poco uscito con i primi due episodi e vederlo con quel look lì muscolosissimo blu con la fascia gialla per me sarebbe il ciclope Tamarro anni 90 perfetto quindi ti prego Marvel ascolta queste parole e rubami quest'idea Wolverine contro Hulk in Deadpool e Wolverine potrebbe succedere o perlomeno potremmo vedere la variante di Wolverine quella apparsa nel primo albo che combatteva contro Hulk con quindi il costume molto stretto le orecchiettine piccole la calotta gialla cioè quel look molto classico ci sarà un cameo anche di Hulk vedremo un momento in cui loro due stanno combattendo replicando un po' la vignetta la copertina del loro storico incontro e poi basta oppure è solo un modo per dirci che ci sarà una variante di Wolverine vestita come il Wolverine quello proprio delle prime apparizioni chi lo sa di certo sembrerebbe che in Deadpool e Wolverine non ci sarà nessun Wolverine che è quello che sarà il Wolverine definitivo dell'MCU a volte ci è capitato da dire ci è capitato di dire sarebbe bello magari che introducessero il Wolverine dell'MCU in un cameo in un ruolo che tu dici ah guarda quella variante di Wolverine e poi in realtà è l'aspetto che avrà nei film dell'MCU più avanti ecco pare che questa cosa non succederà a me sembrava anche non male per fare il passaggio di testimone da attoriale ma evidentemente non gli interessa ok Dotto Strange sarà uno dei protagonisti della multiverse saga saga chiaramente già in corso iniziata con la fase 4 e poi con la fase 5 e in effetti Dotto Strange tra Spider-Man No Way Home e tra Dotto Strange 2 l'universo della follia nel multiverso della follia ci hanno dimostrato che per quanto riguarda le robe multiversali uno dei più implicati è proprio Strange è proprio Strange quindi ok nei vari progetti che riguardano tra virgolette Dotto Strange o comunque dove lui comparirà Dotto Strange cercherà diciamo di non intervenire troppo come aveva fatto ai tempi di Thanos quando aveva visto i miliardi di futuri aveva scelto aveva deciso in qualche modo di intervenire decide di tirarsi un po' indietro di non intervenire più come prima perché nei vari universi che ha visitato che visiterà da qua in avanti ha scoperto che lui è sempre un problema Dotto Strange è sempre un problema qualsiasi cosa faccia gli universi dove abita a un certo punto lo relegano da qualche parte perché fa più casini che aiuti quindi abbiamo uno Strange un po' remissivo che dice no vabbè allora basta non faccio più niente perché qualsiasi cosa faccio visto negli altri universi poi succede qualcosa di sbagliato interessante come concetto gli Eterni torneranno prima di Secret Wars sì no indipendentemente da tutto le trame che hanno lasciato aperte la loro storyline come personaggi dovrebbe in qualche modo funzionare molto bene per le prossime saga MCU io continuo a dire che il giudizio del Celestiale di Arishem potrebbe sì risolversi in un soffio ma il personaggio insomma il Celestiale potrebbe arrivare minacciare la Terra e in qualche modo dare vita a un nuovo Avengers dove loro incontrano anche gli Eterni quindi insomma non si butta via nulla altre serie animate potrebbero tornare Spider-Man di Animated Series degli anni 90 è diciamo ai primi posti come possibilità è quella che viene nominata più spesso anche internamente quando si tratta di prendere decisioni per il futuro dell'animazione io se arriva la serie animata anni 90 nuova stagione come per X-Men 97 godo maledettamente quindi speriamo Savage Hulk quindi la versione di Hulk più cattiva più selvaggia è stato messo sul tavolo delle trattative qualcuno ha detto ma se facessimo una roba con Savage Hulk ma non come film solista perché in generale un film di Hulk da solista è molto improbabile e dico io ci sta cioè se devi fare una roba la World War Hulk mettici anche altri eroi fare un film singolo con Hulk come unico protagonista ha anche poco senso arrivati dove siamo arrivati adesso MI13 agent of atlas sono in sviluppo di questo l'abbiamo parlato anche un po' prima durante la live le MI13 sono un po' sono un po' entrambe agenzie di servizi segreti mettiamola così in una abbiamo gli supereroi inglesi c'è Capitan Bretagna c'è Gaia probabilmente la Gaia di Secret Invasion che viene mandata a lavorare in Inghilterra gli agenti dell'atlas hanno membri oggi un po' più giovanili in un tempo erano molto più attempati adesso vedo che la squadra non segue agent of atlas ovviamente in originale ma ho visto che c'è Amadeus Cho Hulk quello giovane c'è un po' di gente interessante diciamo tutta abbastanza giovane quindi potrebbe essere una serie un po' più young adult certo sia M13 che agent of atlas non mi sembrano delle serie di primo piano però come riempitivo da buttare qua là su Disney Plus posso pure capire che vogliano vogliano mettercele Shang-Chi 2 in sviluppo non ancora lo stanno girando ma è abbastanza certo sempre con Dustin Daniel Cretton alla regia questo arriverà sì veramente prima di Kang Dynasty esplorerà anche la storia dei Dieci Anelli e qual è il segreto che nascondono sti Dieci Sti Dieci Anelli molto curioso e si parlava anche del fatto che si tirava in ballo molto il multiverso in questo Shang-Chi 2 per aprire la porta poi a Kang Dynasty curioso in Spider-Man Beyond the Spider-Verse ci saranno Su Piedaman e il robot gigante Leopardon questo enorme bestione con il leopardo davanti insomma il robo Spider-Man figata se ci sono perché li voglio li voglio vedere al più presto spero che il film non ritardi troppo comprensibilmente senza che i poveri disegnatori e lavoratori muoiano o vengano sfruttati come il primo film quindi Spider-Verse avrà nuovi protagonisti più immagino i vecchi che abbiamo visto alla fine del secondo Spider-Man 4 Spider-Man 4 sarà molto psicologico anche oltre che terra terra non esiste più Spider-Man cioè Peter Parker non esiste più nessuno si ricorda più di lui ma Spider-Man esiste tutte si sono dimenticati di Peter Parker e Peter Parker si sentirà in qualche modo più accettato e riconosciuto quando sarà nei panni di Spider-Man una roba un po' alla Robert Pattinson di The Batman cioè l'uomo consumato che ormai non è più interessato a essere un uomo quindi un miliardario come Bruce Wayne ma solo Batman quindi avremo un Peter non dico ossessionato non immaginatevi un film folle però un Peter che dice vabbè sarò Spider-Man 2 Cure tanto comunque amici e familiari o li ho persi o non si ricordano più di me quindi insomma c'è questa questa roba molto psicologica carina secondo me del supereroe che indossa un costume e viene accettato più di quando magari non lo indossa è intrigante vabbè quest'altro rumor più che un rumor è quasi una nuova conferma una roba che si era già chiacchierata in qualche modo ovvero non trattenete il respiro aspettando X-Men nell'MCU perché non succederà subito dopo Deadpool e Wolverine Deadpool e Wolverine l'abbiamo capito vuole in qualche modo omaggiare il passato chiudere l'universo Fox una volta per tutte ma non vuole lanciare troppe cose riguardo i mutanti nel futuro sembrerebbe sembra più focalizzato sul multiverso e sulla Marvel in generale infatti il rumor dice ci vorrà un po' di tempo prima di vederli nell'MCU e anche questo anche per via dei diritti la famosa storia dei diritti che a questo punto io direi essere vera cioè il fatto che loro non possono recastare gli X-Men e se li devono usare devono usare il vecchio cast perché altrimenti decadono degli impegni che erano stati presi forse in precedenza con Fox io ci credo a questo punto ci credo quindi fino al 2026 se non oltre gli X-Men non li vediamo Young Avengers dovrebbe arrivare come annuncio ufficiale quest'anno Comic-Con D23 fiera della cacciotta di Reggio Emilia no in una delle prossime occasioni vedremo avremo la conferma di Young Avengers che anche quello mi sembrava senza telefonato perché in The Marvels c'è la famosa scena non post-credit però la scena finale in qualche modo agisce da post-credit perché di fatto lei fa la Nick Fury Miss Marvel per andare a contattare Kate Bishop e poi lesemente stanno andando verso Young Avengers quindi l'idea che quest'anno lo annunci mi sembra probabile Marvel in The Marvels ha gettato le basi per il personaggio di Teddy Altman Hulkling non so bene in che modo ha gettato le basi anche se effettivamente il personaggio di Hulkling o Hulkling che è un po' Kree un po' umano un po' Skrull è un mix di razze diventa ad un certo punto il capo il regnante re dell'impero Kree-Skrull cioè sia l'impero Kree che Skrull stanno morendo decidono di appianare le divergenze e di unirsi in un unico impero e mettono lui come re perché è metà metà Kree metà Skrull insomma metà umano insomma rappresenta bene un po' un po' tutto quindi anche questo non è impossibile cioè ma che The Marvels con gli accordi Chris Krull eccetera eccetera abbia tirato fuori in qualche modo le basi per Teddy Altman Hulkling o Hulkling lo trovo lo trovo probabile vorrei capire però che basi cioè vorrei non vorrei mettermi a analizzare il film e capire dove c'è lo spiraglio per Hulkling ma ok ok basta questa era la cascata di rumor veramente gigante alle quali si aggiunge uno un po' più probabile che è l'IM Advanced Idea Mechanics Advanced Idea Mechanics come cattivi di Thunderbolts che vedremo l'anno prossimo l'IM lo sappiamo è nato in Iron Man 3 fondato da Aldrich Killian però anche dopo la sua morte è probabile che l'azienda aziendora vada avanti con anche altri capi ricordiamo che l'IM nei fumetti ha creato Modok non credo Modok lo rivedremo anche se la morte nei film nei fumetti Marvel non è per forza definitiva quindi per adesso resterà nell'universo quantico ma chi lo sa chi lo sa l'IM ha anche creato tra le altre cose tra l'altro la Betty Ross malvagia la Shiulk rossa diventata poi Arpia in per farla combattere contro Hulk quindi l'idea di questo I.M. come coacervo di nemici scientifici di dottori un po' pazzi non mi dispiace e non mi dispiace che siano loro gli eventuali cattivi in Thunderbolts dove sempre secondo i rumor saranno loro a creare Sentry quindi questo Superman della Marvel e allo stesso modo di perdere cioè saranno loro che se lo faranno sfuggire ok e quindi poi diventa il cattivo della della pellicola direi che i rumor sono questi alcuni sono interessanti altri un po' meno alcuni sono scontati altri mi sembrano un po' decisamente improbabili soprattutto l'idea di una World War Hulk prima di Kang Dynasty quella mi sembra un po' folle ripeto è qualcosa che secondo me arriverà ma non prima di The Kang Dynasty non mi sembra molto sensata la cosa a meno che non ci stanno nascondendo che da Capitano America Brave New World con il capo con Betty Ross con l'energia gamma e tutte queste cose qua non mettano dei piccoli semini di qualcosa che potrebbe poi arrivare magari molto molto prima di quel che pensiamo magari giocano la carta magica e ancora non lo sappiamo finisce qua il video registrato ripeto in live quindi venite a trovarmi su Twitch qua sotto in descrizione trovate il link al mio canale Twitch venite entratici iscrivetevi è gratis così potete venire in live possiamo chiacchierare di queste cose anche assieme come sto facendo con la chat che ovviamente durante mentre registravo il video ho potuto leggere ma non non gli ho risposto per non interrompervi ma di solito invece abbiamo delle belle conversazioni mi raccomando venite a scrivere la vostra qua sotto nei commenti quindi fatemi sapere un po' questi rumor se vi piacciono se non vi piacciono se vi sembrano campati per aria se vi sembrano quasi banali parliamone chiacchieriamo un po' del futuro di questa Marvel che a parte Deadpool 3 insomma ci darà un po' pochino quest'anno ma siamo confidenti nel 2025 quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate noi ci vediamo al prossimo video ci sono tra l'altro nelle descrizioni i vari modi per sostenere il mio canale io ve ne ricordo due insidecollector.com andateci per comprare fumetti Funko Pop statuine fumetti italiani americani variant americane senza la dogana scrivete uomo per avere il 5% di sconto oppure nerdostore.com codice sconto uomo 15% insomma magliette felpe super fighe con design unici tutte italiane insomma super affidabile fateci un giro tra l'altro su insidecollector se ordinate dei fumetti tipo che ne so il il l'omnibus di turno ok no gigantesco potete pagarlo quando vi arriva a casa quindi magari voi ordinate l'omnibus che più vi piace spendete 100 euro ma pagate solo alla consegna quindi super sicurezza che quello che vi arriva vi arriva lo pagate solo a quel momento e se scrivete uomo 5% di sconto mi raccomando ultima volta venite nei commenti parliamo dei rumor voglio chiacchierare con voi e noi ci vediamo al prossimo video ciao